Ciao a tutti ragazzi, questa sera mi vedete in un negozio dedicato al tennis e al padel, siamo a Milano Marittima, Cervia, in provincia di Ravenna, che gentilmente mi ha concesso la possibilità di presentarvi alcuni articoli, fra i quali qui vediamo racchette per chi si approccia al tennis, che quindi ancora non è pronto per un telaio troppo impegnativo, quindi un telai agonistico, abbiamo delle racchette interessanti, molto belle, secondo me abbiamo la gamma come vedete Babolat, quindi qui abbiamo dei telai tra virgolette anche facili, che concedono diciamo qualcosa in facilità di gioco e in maneggevolezza, abbiamo qui la Babolat, abbiamo due versioni, due colorazioni, una magari un pochino più femminile e una un pochino più sul maschile, qui a livello di pesi siamo abbastanza leggeri, siamo, Gabriele aiutami tu, qui siamo sui 275 grammi anche per la versione giusto più femminile, sono molto belli, secondo me interessanti, Babolat è sempre una garanzia per quanto riguarda l'estetica ma anche la qualità. Poi abbiamo, come vedete, abbiamo interessanti, questi telai me li ha preparati Gabriele, quindi il titolare di Matchpoint, questo negozio che voi trovate a Milano Marittima ma che ha anche sede a Cesena, molto bello, qui appunto Michela vi sta facendo vedere, la regia vi sta facendo vedere il negozio di Milano Marittima, vedete non solo telai ma anche tutto per il tennis e per il paddle, molto bello, grazie Gabriele per avermi invitato nel tuo negozio, avermi concesso la possibilità di far vedere queste stupende racchette. Qui abbiamo Ionex, sempre 260 grammi, quindi molto molto valida, praticamente come colorazione è lo stesso telaio che vedete anche a livello professionale, quindi vediamo qui la versione agonistica, ma qui abbiamo il peso da 260 grammi, quindi molto più facile per chi si approccia al tennis, per chi frequenta i corsi di tennis, quindi che possa essere un adulto o un ragazzo, una ragazzina dai 13-14 anni in su, oppure una signora o anche un adulto uomo che magari ancora è alle prime armi o gioca a livello amatoriale, quindi magari fa la partita con gli amici, fa il doppio, ecco questa tipologia di racchetta può essere indicata per questa categoria, diciamo così. Qui abbiamo, molto bella, abbiamo una Prince, dal piatto corde un pochino più generoso, quindi qui abbiamo un 100 di piatto corde, abbiamo un profilo abbastanza anche lui spesso, quindi questo concede un pochino più di spinta, di potenza, ma anche di presa della rotazione, magari se siete amanti della rotazione in top spin o volete provare a migliorare questa tipologia di gioco, quindi siete col maestro, state provando a migliorare i colpi in top spin, che possono essere di dritto o di rovescio, ecco una racchetta un pochino più generosa di profilo, ma sempre comunque leggera e manegevole, può aiutarvi da questo punto di vista. Come abbiamo detto, qui abbiamo Babolat, abbiamo Ionex, abbiamo Prince, per questa categoria abbiamo detto, chi si approccia al tennis che ancora non è pronto per un telai agonistico, non si vuole impegnare sia dal punto di vista economico, ma anche di materiali, quindi di rigidità, della racchetta, di impegno fisico anche, potete tranquillamente stare su un telaio di questo genere, anche di gamma di prezzo e qui vi dico che nella descrizione del video trovate tutti i quattro modelli che avete visto in questo video, trovate anche il prezzo e tutte le caratteristiche. Bene, ringrazio ancora Gabriele per questo spazio che mi ha concesso nel suo negozio, se siete interessati all'acquisto di uno di questi prodotti potete farlo, andate qui nella descrizione del video, entrate sullo shopping online di Tennis Live Shop, potete inserire il codice Roberto, anzi lo dovete inserire per avere un ulteriore sconto del 5%, quindi il codice Roberto. Al prossimo video, sempre per quanto riguarda le attrezzature, mi raccomando, alla prossima. Ciao Roberto.